e sul canale di gas blender oggi vi farò vedere come dire lo schermo del proprio smartphone come vedete questo aggeggio qui è un supporto con uno schermo ingrandente che ci permette di ingrandire lo schermo del nostro telefonino andiamo a provarlo eccolo qui come vedete come vi dicevo abbiamo il nostro punto ingrandente che possiamo regolare tramite questa aletta qui che va agganciarsi qua ok mentre qui abbiamo la stessa regolazione ma per il nostro smartphone ed ecco qua infatti come vedete già lo smartphone fa fatica è tenuto comunque lo schema del nostro smartphone viene leggermente ingrandito non di molto cioè comunque la qualità ottimale vedete si può regolare comunque lo schermo non verrà mai perfetto e telefono continua a cadere questo prodotto onestamente non lo consiglio perché può danneggiare gli occhi nostri dei nostri bambini quindi secondo me non è da acquistare assolutamente è molto carina l'idea però la qualità di questo prodotto in questo caso è veramente scadente infatti vedete questa è plastica comunque è zigrinato quindi sconsiglio l'acquisto voi cosa ne pensate fatemi sapere tutto nei commenti e ci vediamo al prossimo video se vi è piaciuto questo video ricordatevi il like un saluto